Salve a tutti amici di Gimba Network, il mio nome è Matteo Bini e sono il vincitore del Rookie Contest di dicembre. In questo canale mi piacerebbe occuparmi particolarmente di tutti i videogiochi riguardanti la Team 17 Software Limited e di Worms. Per questo motivo anche oggi vedrete un gameplay di Worms Reloaded, infatti vi voglio parlare di un argomento che secondo me è molto curioso ed anche interessante. Oggi parleremo assieme di Darksiders e Lightsiders. Già, ma che cosa sono dei Darksiders e dei Lightsiders? È un'ottima domanda ed è proprio per questo motivo che ho deciso di spiegarvi in che cosa consistono questi due stili di gioco. Naturalmente vi dirò anche che cosa ne penso di essi e soprattutto qual è il mio stile di gioco che adotto nella maggior parte dei match. Detto questo penso proprio che possiamo iniziare. Il termine Darksider può essere tradotto in italiano come seguace del lato scuro, ovvero il giocatore che segue le regole del lato scuro per disputare un match. Un Darksider solitamente usa strumenti come la corda, il jetpack, ma molto più spesso la torcia, il martello pneumatico e il teletrasporto per raggiungere luoghi inaccessibili in cui barricarsi per circa tutta la durata della partita. Un Darksider utilizzarmi a lunga gittata come possono essere gli attacchi aerei o i missili autoguidati. Per farvi capire al meglio questa categoria di giocatori adesso vi mostrerò delle clip che ho realizzato nella modalità di addestramento di Worms Reloaded nelle quali potrete osservare le principali tecniche di un Darksider. Come potete vedere ci si barrica grazie all'utilizzo della torcia, delle travi, oppure in alcuni casi anche nel saper utilizzare correttamente la corda ninja e il jetpack per poter raggiungere luoghi difficilmente accessibili in altri modi. Le principali armi sono come ho detto prima gli attacchi aerei, gli attacchi al napalm, gli attacchi velenosi, i missili autoguidati e in alcuni casi anche granate se siete in una posizione da Darksider ma diciamo non troppo incavata o in profondità. Quindi, ricapitolando, un Darksider userà sempre armi a lunga gittata che possono essere usate senza avvicinarsi troppo all'avversario. Inoltre può sfruttare l'ambiente circostante per crearsi un buon posto riparato, può utilizzare le mine per rendere più difficile l'accesso al suo nemico, la torretta armata oppure anche l'elettromagnete. In alcuni casi anche l'invisibilità è un segno che contraddistingue il Darksider dal Light Sider. Infatti l'invisibilità può essere utilizzata per barricarsi ben bene e far dimenticare all'avversario il luogo in cui ci siamo nascosti. Dato che molti di voi probabilmente giocheranno a Call of Duty, vi farò un paragone con questo titolo. Un signore del lato scuro usa delle armi a distanza, come può essere il fucile di un cecchino, e sfrutta l'ambiente stazionandosi in un punto fisso, proprio come in Call of Duty, per sopraffare gli avversari. Direi che la somiglianza tra una mina di Worms e la Claymore del camper viene da sola. Questa era la mia spiegazione del Darksider. Adesso possiamo tornare sul gameplay da Light Sider e invece parlare dello storico oppositore del lato scuro, ovvero il lato chiaro. Dopo tutto quello che si è detto sui Darksiders, probabilmente vi sarete fatti un'idea di come deve essere un Light Sider, cioè all'esatto opposto di un Dark Sider. Quindi, il giocatore che segue il lato chiaro non dovrà mai nascondersi, non dovrà rifugiarsi in cunicoli o cercare posti difficilmente accessibili al nemico. Ciò significa che giocherà allo scoperto, per così dire sempre alla luce del sole. Inoltre il suo arsenale sarà molto più ampio e variegato, perché non sarà costretto ad utilizzare soltanto armi a distanza. Infatti un Light Sider preferisce solitamente lo scontro ravvicinato e quindi l'utilizzo di armi che comportano avere il proprio bersaglio nel campo visivo del giocatore. Per fare un confronto con COD potremmo rapportare un sequash del lato chiaro con un rusher, ovvero un giocatore che, penso molti di voi sapranno, si muove sempre, usa perks e armi per effettuare questi spostamenti veloci e girare sempre all'interno di una mappa alla ricerca di uccisione. Quindi l'opposto del camper non staziona mai e si muove sempre, è sempre in movimento e corre molto spesso. Bene, adesso vi ho spiegato il significato di Dark Sider e di Light Sider. Forse qualcuno si chiederà, ma tu com'è che giochi? La risposta è molto semplice, io non appartengo a nessuna delle due fazioni. Infatti preferisco modellare la mia strategia a seconda sia dell'avversario, sia della partita, sia della situazione attuale in cui mi trovo in una qualunque partita. Vi faccio un esempio, se vi trovate in una partita con due o meno vermi e la vostra salute è inferiore a 50 health points e magari i vostri avversari non solo sono in sovranumero, ma sono anche più bravi di voi, secondo voi è saggio comportarsi da Light Sider e andare incontro ad ogni pericolo? Io credo proprio di no, infatti in alcune situazioni è molto più strategicamente utile ritirarsi e aspettare che gli avversari si scontrino tra di loro affinché si indeboliscono a vicenda e noi possiamo tornare per tentare di sopraffarli. Naturalmente non sempre è la cosa migliore adottare questo comportamento perché vi possono essere delle partite nelle quali noi siamo in vantaggio e perché decidiamo di comportarci da fifoni passiamo in svantaggio. Quindi ricordate, tutto dipende da voi e da quello che ritenete strategicamente migliore e utile alla vostra squadra. In linea di massima dovreste aver capito che io non prediligo né il lato scuro né il lato chiaro. Comunque, se mi dovessi schierare a favore di una delle due credo che sarei più un Light Sider, per il semplice fatto che è molto ma molto più divertente sia giocare contro un Light Sider sia giocare come Light Sider. Personalmente mi annoio un pochino a stare sempre rintanato e a non combattere mai il nemico. Voi che cosa ne pensate? Quello che ho detto durante il corso di questo commentary sono soltanto le mie opinioni personali, quindi non sentitevi costretti a giocare in un modo o in un altro. Siate liberi, usate la fantasia, ma soprattutto scrivetemi che cosa ne pensate e se preferite essere un Dark Sider, un Light Sider o se addirittura avete un altro stile di gioco tutto vostro che chiamate con una qualche parola inventata da voi. Questo è tutto, ringrazio Jinba Network per aver pubblicato il mio primo video e per avermi permesso di realizzare questo secondo. Ringrazio chi ha commentato il primo video, chi l'ha visto, chi ha messo mi piace, tutte quelle persone che mi hanno supportato e continuano a supportarmi e forse chissà, continueranno anche a supportarmi in futuro. Ed eccoci ai saluti finali, Team17 Newsita, Matteo Bini vi saluta, ci vediamo ad un prossimo video, a presto. Grazie. 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 Grazie.